dottore saveri annunziata medico di famiglia siamo entrati in questa terza quarta quinta fase del covid non si è capito che cosa ma la medicina è cambiata tantissimo soprattutto la medicina di famiglia e medici di famiglia seguono la stragrande maggioranza dei pazienti italiani e è nata una vera e propria fobia del covid attualmente questo è sostanzialmente vero e ovviamente diciamo il problema che si è presentato a livello planetario ha modificato diciamo non soltanto l'organizzazione sanitaria in senso in senso lato in senso estensivo ma anche e soprattutto la medicina territoriale perché chiaramente sono emerse quelle che possono essere delle situazioni come dire di non puntuale o precisa organizzazione da parte dell'assistenza territoriale laddove appunto si possono riscontrare delle problematiche di questo genere come quelle appunto del del covid non dimentichiamo che nella prima e nella seconda ondata ha metuto delle vittime diciamo numerosissime perché l'aggressività la virulenza di questo virus è stata veramente molto accentuata e quindi chiaramente questo ha ingenerato una fobia generalizzata per quanto riguarda questo tipo di infezione e quindi ovviamente questa questa fobia ha finito per come dire trasportarsi anche adesso in queste ondate diciamo ulteriori ultime nelle quali chiaramente il virus ha perso via via diciamo la sua virulenza non certo la sua contagiosità che anzi in questo periodo è aumentata e in fase di aumento ma sostanzialmente insomma possiamo sicuramente affermare che le manifestazioni cliniche sono molto più come dire molto più miti rispetto alle ondate iniziali il tant'è che appunto i ricoveri sono ridotti sono ridotti diciamo gli accessi nelle terapie intensive eccetera e ovviamente rimane l'assistenza del territorio che quella già il primo impatto tant'è vero che chiaramente la medicina generale è quella che chiaramente è sempre il front office per quanto riguarda come dire il l'intercetto delle patologie quindi di primo impatto e quindi chiaramente al medico di vicina generale arrivano tutte le richieste tutti i timori tutte le fobie e quindi la domanda da parte della 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 cittadinanza da parte dei pazienti è sempre ridonnante e si ripete continuamente diciamo il timore sempre dell'infezione da covid che chiaramente risulta il primo alla prima attenzione diciamo che il paziente rivolge a qualsiasi problematica possa capitargli dal banale raffreddore al colpo di tosse al mal di pancia alla febbre eccetera dimenticando che ovviamente soprattutto in questi periodi il periodo invernale anche il periodo primaverile sono periodi e questi che non sono esenti come da sempre da problematiche epidemiche di tipo influenzale o di tipo diciamo malattie di raffreddamento che poi sono tipiche anche dei coronavirus che sono i virus del raffreddore fondamentalmente e quindi chiaramente la ricorre reitera sempre costantemente la domanda il timore che si tratti di covid e quindi escludere il covid e chiaramente noi ci siamo attrezzati da tempo per quanto riguarda una sorta di screening che viene fatto sul territorio attraverso l'uso dei tamponi siamo comunque in grado noi come anche i farmacisti eccetera di intercettare chiaramente le problematiche l'insorgenza dei casi positivi e quindi di continuare a trattarli ma possiamo dire sicuramente che in questa fase con questo tipo ancora di epidemia esistente diciamo timori per il momento non ce ne devono essere anche perché poi voglio sottolineare una cosa e questo è forse stato ribadito più volte ma è sempre importante ribadirlo nei pazienti in generale cioè filogeneticamente qualsiasi forma virale qualsiasi tipo di virus qualsiasi specie di virus tende comunque col tempo ad adattarsi all'ambiente e quindi perde via via la sua virulenza perché per adattarsi all'ambiente deve fare in modo che il suo ospite sopravviva non può consentire che il suo ospite muoia altrimenti diciamo questo potrebbe causare la sua stessa estinzione quindi l'estinzione della stessa specie virale per cui è ovvio che con il tempo con le varie mutazioni con le varie diciamo mutazioni appunto virali il virus via via ha perso diciamo la sua virulenza questo dal punto di vista però come dire concettuale è un concetto c'è un'espressione sicuramente valida e importante però bisogna sempre stare in allerta perché non sappiamo realmente poi tutte le altre forme virali che tipo di evoluzione potranno avere non dimentichiamo che nel diciamo nei paesi più sotto sviluppati dove il vaccino non è stato adeguatamente introdotto e adeguatamente esteso alla popolazione questi sono dei serbatoi dove il virus replica in maniera diciamo incontrastata e più aumentano le replicazioni più è facilitata più sono favorite le mutazioni genetiche e quindi più compaiono varianti virali che non sappiamo poi realmente queste varianti se saranno sempre meno virulente oppure potrebbe capitare diciamo una variante che ritorni ad avere un come dire una sua caratterizzazione più virulenta che può comportare diciamo problematiche per cui è ovvio che il consiglio che viene dato è quello di essere sempre attenzionati su questa problematica e come dire ricorrere senza tanti come dire affanni o senza tante fobie semplicemente a quelli che sono i criteri precauzionali da sempre adottati che sono la mascherina l'igiene delle mani fare attenzione diciamo degli ambienti chiusi e quindi diciamo quelle che sono le regole oramai universalmente riconosciute e universalmente condivise. Ecco per chiudere la nostra chiacchierata c'è anche un grosso condizionamento che è quello psicologico in questo momento soprattutto per quanto riguarda le persone più fragili relativamente al covid. Sì allora questo è vero, è verissimo quello che dice tant'è che appunto l'oraggrediazione mondiale della sanità e quindi anche il nostro il nostro servizio sanità nazionale propende ovviamente per la seconda dose booster per quanto riguarda i soggetti ultraottantenni nonché tutti soggetti fragili quindi che hanno patologie particolarmente come dire spiccate che incidono sulla salute generale del soggetto nonché i soggetti ovviamente che sono ricoverati nelle case di riposo quindi sempre soggetti anziani. A qui si viene raccomandato di fare la seconda dose booster quindi sarebbe la quarta dose cosiddetta perché ovviamente con l'età e anche nei soggetti fragili si è visto che il sistema immunitario anche esso diventa più fragile quindi fondamentalmente quindi non si ha una come dire una memoria immunitaria così spiccata come si può avere un soggetto più giovane per cui è opportuno che questi soggetti si sottomongono a vaccinazione. Si parla di quarta dose probabilmente da somministrare poi a tutti sempre seguendo le fasce d'età il criterio che sarà adottato sin dall'inizio della campagna vaccinale sicuramente se ne ripanderà a settembre ottobre con come dire la comparsa di questa della nuova epidemia perché sappiamo oramai che l'epidemia diciamo virale come quella influenzale che tutti quanti conosciamo ormai da tempo da anni e ricorre stagionalmente con l'avvento dell'autunno-inverno e quindi tutto l'inverno praticamente si riaccendono diciamo queste forme virali influenzali e tra queste ci aspettiamo ovviamente una recrudescenza della epidemia da covid-19 con l'auspicio che chiaramente queste nuove varianti come dicevo prima siano comunque meno virulente e quindi possono dare dei sintomi simili influenzali insomma del tutto trattabili. Grazie dottore per essere stato con noi. Grazie a voi.